Zaya. Il Covid è già la capitale dell'altopiano, è pronta la riapertura estiva. L'ita in famiglia, ubriaco, picchia i genitori che non gli vogliono dare le chiavi della macchina. Edizione serale del Tg Bassano, buonasera a tutti voi telespettatori. Vediamo immediatamente l'aggiornamento dell'Ulss 7 pedemontana per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Abbiamo un totale di casi positivi che oggi sono a 1.579, sono 839 guariti su 33.321 tamponi eseguiti. I ricoverati sono 57, sono 45 a Sant'Orso e 12 a Marostica. Nessun paziente Covid è in terapia intensiva o semi-intensiva. 105 invece sono i deceduti, non c'è nessun decesso da ieri. E nel consueto incontro quotidiano il governatore Luca Zaia parla delle riaperture del 18 maggio e anche della mostra di disegni dei bambini, svelando la sede che li ospiterà. A dieci giorni di distanza dalle prime riaperture del 4 maggio il coronavirus resta in circolazione ma tutti i dati sanitari in Veneto sono in calo. Oggettivamente stanno calando drasticamente i ricoveri, calano le terapie intensive in maniera vistosa e peraltro abbiamo le negativizzazioni in ospedale, altro aspetto che è bene sottolineare, cioè pazienti ricoverati positivi che durante le cure si sono anche negativizzati. Nessun segnale di reinfezione, nessun focolaio di Covid. La regione è pronta a riaprire tutto quello che si può, ma c'è da risolvere il nodo delle linee guida dell'Inail. Le linee guida dell'Inail in alcuni contesti, in certi comparti, sono inapplicabili o meglio si applicano, ma non si apre. Il tema della spiaggia è uno di questi, il tema dei ristoranti è un altro tema. Zaia punta invece a un decreto generico del governo che poi deleghe alle regioni, rispettando l'impegno verbale preso dal premier Conte, le linee guida singole, compresi centri sportivi, palestre e piscine. Intanto Zaia conferma, Vo ospiterà la mostra delle migliaia di foto e disegni inviate dai bambini. Donare ad Helios significa pensare al futuro della nostra sanità. Allora sentiamo il perché. Non è più solo il presente, l'emergenza Covid o la situazione coronavirus negli ospedali che stanno a cuore all'associazione Helios Onlus quanto il futuro. Dopo aver raccolto da voi telespettatori e poi speso nella massima trasparenza quasi mezzo milione di euro per sostenere gli sforzi nella lotta contro la pandemia, ora Helios vuole assicurare un futuro più stabile al San Bassiano, acquistando attrezzature, materiale e strumenti per la diagnosi per un ulteriore salto di qualità. E allora aiutate Helios, aiutiamo Helios. Qualunque cifra merita un grazie. Il domani della nostra sanità sarà più luminoso. Torniamo a parlare delle case di riposo di Bassano. I parenti degli ospiti lamentano scarsa comunicazione da parte degli istituti per anziani e anche gli interventi attuati non sembrano soddisfare le esigenze dei familiari. Quando si parla di anziani è sempre necessario alzare la sticella della sensibilità e dell'attenzione perché si parla delle fasce più esposte della popolazione, tanto al coronavirus quanto alle ricadute emotive e psicologiche che l'epidemia sta portando ai nostri anziani. Ecco perché chi si occupa di loro ha il dovere di agire con chiarezza, trasparenza, correttezza ed efficacia e una delle esigenze più sentite degli anziani ospiti è quella di poter parlare con i propri cari. Dopo la chiusura totale delle residenze abbiamo cercato con comunicati, telefonate e videochiamate di farvi sentire più vicini ai vostri cari, spiega ad esempio una nota emessa poche ore fa dall'ISAC di Bassano. Ma sappiamo che il desiderio maggiore è quello di poterli vedere di persona. Probabilmente dire abbiamo cercato e quanto di più vicino ci sia la realtà, dato che solo pochi giorni fa alcuni parenti degli anziani ospiti di Villa Serena ci dicevano questo. Sono due mesi che non vedo più la mamma. È risultata positiva, si sa questo? Lei è risultata positiva. E sa che misure sono state prese, sa se è stata isolata, sa come funziona? No, assolutamente. Non so niente né come funziona né come chi è positivo, dove lo mettono. Cioè non sappiamo niente. Ora l'ISAC annuncia che entro fine mese saranno collocate delle strutture mobili con un divisorio interno che consentirà a familiari ospiti di incontrarsi e dialogare fra loro. Gli incontri avverranno su appuntamento e sotto la sorveglianza del personale incaricato. E sul decreto rilancio, o meglio sulla bozza del decreto, ci sono dubbi e forti timori dal mondo delle imprese. Sentiamo. La reazione degli imprenditori di App Industria alla presentazione del decreto rilancio è fredda, anzi negativa, se non fosse che si tratta ancora di una bozza, e che c'è la speranza di vedere nella versione definitiva qualche modifica migliorativa. Come al solito abbiamo avuto i proclami televisivi, ma di fatto il documento ufficiale tranne le bozze non c'è. Quindi attendiamo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale per dedicargli del tempo a studiarlo e capirlo. Comunque, come sempre, non ci siamo. Io sono molto arrabbiato di quello che ho letto sulle bozze. Il timore è quello di imprese manifatturiere senza futuro. Il rischio, quello della perdita di posti di lavoro, con tutti i conseguenti problemi sociali e finanziari per le imprese. Altro tema di attualità, quello del bando per ottenere il rimborso delle spese di sanificazione. Sono arrivate le prime risposte. Quindi i sanificatori che molte attività, soprattutto anche i commercianti, quindi chi ha l'accesso del pubblico all'interno dei propri negozi, quindi che stanno spendendo somme importanti, non verranno rimborsati. Quindi i sanificatori non verranno rimborsati. E verranno rimborsati solo i liquidi, quindi il materiale utilizzato per eventualmente sanificare. Il rischio, ad esempio, è quello di sanificare un negozio di abbigliamento spendendo molto, senza rimborsi e magari senza clienti che entrano. Altro esempio, aziende manifatturiere con un centinaio di addetti che hanno già comprato misuratori di temperatura sofisticati, veloci e costosi, ma avranno solo il rimborso pari a termometri laser del valore di poche decine di euro. Sono molto preoccupato, non tanto per quanto riguarda la salute nella mia regione che è gestita molto bene, ma per il futuro delle imprese venete e non solo, perché così ci stanno veramente mettendo in ginocchio. Parliamo di Asiago che si prepara al ritorno alla normalità e a un'estate che si pronuncia importante dal punto di vista turistico. Durante l'emergenza coronavirus, Asiago non è rimasta con le mani in mano. La capitale dell'altopiano dei sette comuni ha lavorato duramente per presentarsi al termine del periodo più difficile per cittadini e aziende come un punto di riferimento per il turismo, come e più di prima. C'è grande interesse verso il nostro territorio in questo momento in cui le persone si stanno organizzando per le loro vacanze e le agenzie immobiliari, gli alberghi stanno ricevendo molte domande anche per visite di unità immobiliari, perché credo che il nostro territorio si presti molto per garantire quel concetto di distanziamento sociale. Quindi noi stiamo lavorando molto in questo periodo perché stiamo elaborando una variazione di bilancio di circa 800 mila euro che sarà a favore prevalentemente delle attività commerciali, del turismo, perché vogliamo iniettare parecchi soldi in questo comparto che è un comparto vitale per la nostra economia. In ballo quindi una lista di eventi e manifestazioni basate su quel che è di più importante all'altopiano, la natura. Eventi, manifestazioni che porranno al centro l'ambiente, quale elemento centrale e nevragico di un'offerta turistica straordinariamente integra e di grande attrattività, proprio perché il nostro ambiente è la punta di forza di tutto ciò che noi offriamo al turista. Resta da capire quale turismo tornerà a vivacizzare Asiago e il suo territorio. Molti stanno riscoprendo la montagna, la nostra montagna, e questo ci viene dimostrato dai dati delle presenze degli arrivi che negli ultimi anni, per quanto riguarda Asiago, sono nettamente in aumento e questo premia anche una politica molto forte, molto incisiva a sostegno delle attività turistiche. La scuola Mazzini a Bassano è inagibile e il Comune decide di chiuderla. Cioè la scuola è inagibile di farlo? La scuola è inagibile. In questo momento può essere solo un involucro vuoto. La scuola di cui parla l'assessore ai lavori pubblici di Bassano, Andrea Zonta, è la primaria Mazzini, lo storico istituto bassanese inaugurato il 16 ottobre 1910, un edificio che in 110 anni ha accolto e ospitato migliaia e migliaia di studenti. Ospedale militare durante la Prima Guerra Mondiale ha sempre rappresentato un punto fermo per i bassanesi e per tutti coloro che arrivando ai piedi del grappa hanno avuto modo di passarci accanto, di fermarsi nei giardini. Ora questo edificio tanto caro alla città è chiuso. Una perizia ha dimostrato che dal punto di vista statico non è sicuro. Dovranno quindi traslocare gli alunni della primaria le nove classi del liceo Brocchi e le 17 associazioni che in quello stabile avevano la loro sede. Diciamo che fortunatamente attualmente non sono occupate le stanze, le classi per via del Covid, altrimenti ci saremmo trovati a dover organizzare un trasloco brusco. Per i bambini della primaria il Comune ha pensato ad una sistemazione all'interno della scuola media Vittorelli. Io ho fatto la Vittorelli, c'erano 24 classi fino all'H, adesso invece sono solamente 11. Quindi voi capite che gli spazi riorganizzati, riverificati e ovviamente diviso quelli che sono i due istituti con degli ingressi a orari diversi, con spazi diversi, potrebbe assolutamente essere abbastanza in ordine. Resta invece da risolvere il problema della collocazione degli studenti del Brocchi. Intanto il Comune sta già pensando all'intervento di ristrutturazione della scuola che peserà sul bilancio del Comune per diversi milioni di euro. Abbiamo la forte volontà di esprimere la progettualità e quindi non faremo passare tempo sugli interventi necessari per riportare questo importante edificio storico della nostra città. Parliamo ora di un problema che ci aveva segnalato un telespettatore perché sono arrivate buone notizie. E io chiamo la rubrica dedicata a tutti i problemi segnalati dai telespettatori. Vi ricordate quella andata in onda il 7 novembre dello scorso anno? Ebbene, ci aveva chiamato signora Schirato per un grosso problema di perdita d'acqua e di rete idrica vetusta a Valrovina di Bassano. Etra, da noi contattata, aveva risposto che si sarebbe occupata del caso con un progetto più completo ed importante del semplice ritocco qua e là, come era già stato fatto. È proprio di questi giorni la notizia che Etra, conoscendo la problematica da qualche tempo, comeppure la situazione più in generale della rete idrica che alimenta tutta la frazione di Valrovina, ha approntato, pianificato uno specifico intervento di rifacimento della rete idrica. Proprio di recente sono state ottenute le ultime autorizzazioni necessarie per consegnare i lavori all'impresa esecutrice in appalto. Lavori che avranno inizio, salvo imprevisti, entro la fine del mese di maggio. Il commissariato di polizia rimane chiuso al pubblico. Licenze di caccia e passaporti saranno in consegna attraverso i comuni. Gli uffici amministrativi del commissariato di Bassano rimarranno chiusi al pubblico almeno fino a fine mese. La polizia nel frattempo si è accordata con i sindaci dei 18 comuni del distretto 1 dell'US7 per la consegna delle licenze di caccia e tiro a volo nuove e rinnovate che sono giacenti. I comuni contatteranno gli interessati e concorderanno le modalità di ritiro. Idem per i passaporti, ma l'accordo riguarda per ora solo i comuni di Tiene, Piovene e Rocchette, anche se potrebbe essere presto esteso anche ad altri comuni. E la cronaca con un brutto episodio di violenza tra le mura domestiche. Lita in famiglia ieri sera a Mussolente, un 35enne ubriaco ha picchiato i genitori di 68 e 64 anni che gli negavano le chiavi dell'auto con la quale il giovane voleva uscire a tutti i costi. Per fermarlo sono intervenuti i vicini di casa che lo hanno trattenuto fino all'arrivo degli agenti del commissariato e dell'ambulanza che ha portato il 35enne in ospedale. La polizia sta valutando il codice rosso previsto dalle nuove norme introdotte per i casi di violenza tra le mura domestiche. E ancora a cronaca con un episodio tutto da chiarire accaduto in Valbretta. Spari in pieno giorno vicino alla chiesa di Carpanè in Valbretta. Si è trattato forse di un regolamento di conti tra bande di malviventi, ma ci sono ancora diversi lati oscuri da chiarire nella vicenda. Fermati e interrogati dai carabinieri tre uomini, un senegalese residente nel Vicentino, un italiano e un dominicano che vivono nel Trevigiano. Ancora non si sa nulla invece di un quarto uomo che si è allontanato a bordo di un'auto di colore scuro facendo perdere le proprie tracce. L'auto di uno dei tre è stata ritrovata con le gomme tagliate. Le indagini da parte dei carabinieri proseguono. Non si escludono sviluppi già nelle prossime ore. Questa mattina si è verificato un incidente tra ciclisti avvenuto a Roana, dove un 75enne ha investito un altro appassionato delle due ruote. L'anziano è stato portato prima in ospedale ad Asiago e poi in elicottero al San Bortolo, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Andiamo ora ad Enego, dove un altro cane è morto a causa delle esche avvelenate e poste per eliminare i lupi ed altri animali selvatici. Torna l'incubo delle esche avvelenate a Enego, dove nei giorni scorsi è morto un cane che aveva mangiato un boccone imbottito di veleno sulla strada per l'ex forte di Serre. Il sindaco Ivo Boscardina ha avvertito residenti e visitatori perché prestino la massima attenzione. Probabilmente le esche sono state poste per avvelenare lupi e altri selvatici. Ci spostiamo ora a Gallio con lavori in corso. L'emergenza coronavirus non ferma i lavori in alto piano. Sono partiti gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino della strada d'accesso alle Sette Bocche di Gallio, un'area di grande interesse naturalistico e turistico molto apprezzata da altopianesi e turisti. L'operazione è un modo per prepararsi al ritorno del turismo una volta passata l'emergenza. Ed è bufera sulla parlamentare bassanese Sara Cuniala per una dichiarazione che potrebbe configurare il reato di vilipendio nei confronti del capo di Stato. Ed ecco cosa ha detto. Lo scientismo dogmatico è protetto dal nostro pluripresidente della Repubblica, che è la vera epidemia culturale di questo paese. Questa dichiarazione della parlamentare bassanese del gruppo misto Sara Cunial, ex Movimento 5 Stelle, ha scatenato un vespaio a Montecitorio durante la dichiarazione di voto sul Covid. Ora si sta valutando se l'intervento configuri il reato di vilipendio nei confronti del capo dello Stato Sergio Mattarella, oppure se Cunial stesse parlando di Giorgio Napolitano. Picchia e minaccia di bruciare vivi i genitori. Arrestato un 41enne dell'Alta Padovana poco tempo fa aveva già inscenato anche una finta rapina. Vi brucio vivi. Minacce percosse anche davanti ai carabinieri arrivati in un'azienda a conduzione familiare di San Martino di Lupari. Vittime delle violenze una coppia di anziani genitori terrorizzati dal figlio 41enne che è stato arrestato. I militari scoprono così che il calvario dei genitori durava da anni e l'episodio era solo l'ultimo di una lunga serie di soprusi e vessazioni psicologiche. L'uomo inoltre solo una settimana fa era stato denunciato per simulazione di reato. Aveva raccontato in caserma di essere stato vittima di due sconosciuti che proprio all'interno dell'azienda lo avevano derubato. In poche ore però si era scoperto che erano tutte bugie architettate per nascondere alcuni danni che lui stesso aveva provocato dopo l'ennesima lite con i parenti. In chiusura di telegiornale vi ricordo gli ospiti in collegamento in diretta questa sera Focus che saranno Valeria Arzenton, Cristiano Corrazzari, Fabio Crea, Simone Gastaldello, Patrizia Gobat, Sara Norelli, Massimo Romeo Piparo e Massimo Venturato. Appuntamento quindi alle 21.15. Diamo ora spazio ai vostri sms e a seguire le previsioni del tempo di domani. Il nostro telegiornale termina qui. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Grazie a tutti. Benvenuti al meteo. Prevale una certa variabilità a causa di correnti umide di passaggio sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 15 maggio. Sul Veneto avremo un tempo che sarà spiccatamente instabile con cielo nuvoloso e piogge sparse ma frequenti su buona parte della nostra regione. Fenomeni più intermittenti e alternati a schiarite soleggiate, specie sul Rodigino e sul Veronese. Temperature minime tra i 12 e i 16 gradi, valori massimi compresi invece tra i 21 e i 25 gradi. Diamo ora uno sguardo più approfondito alla situazione di Bassano del Grappa. Anche qui avremo condizioni di maltempo, specie al mattino con rovesci e temporali in giornata. Però non mancheranno anche delle parentesi, vedete, maggiormente asciutte e anche soleggiate. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Rete Veneta. Arrivederci. L'Olato, ortopedia e sanitaria, vasta gamma di ausili e soluzioni personalizzate. A Bassano del Grappa, Viale Vicenza, ad Asiago, Vicenza e Montebelluna. L'Olato, al servizio del tuo benessere.